Comis, a Pesaro dal 1994, opera nel settore della progettazione e realizzazione di sistemi di trasporto a olio e gas grazie alla competenza del proprio staff. 100 dipendenti, con tecnici altamente qualificati. Tramite il proprio sistema di gestione integrato qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale, Comis implementa continuamente le proprie risorse e le capacità tecnico-professionali per garantire ai propri clienti servizi integrati di progettazione e direzione lavori di elevata professionalità sviluppando sistemi innovativi e a basso impatto ambientale nel settore dell'oio e gas. Comis, progettiamo le infrastrutture per andare a tutto gas.